Il comune di Padova va in pressing sul governo alla luce dell'ultimo decreto firmato dal capo dell'esecutivo Giuseppe Conte. Il primo cittadino, Giordani, in una nota ufficiale ribadisce che servono immediatamente robusti, certi e rapidi indennizi a fondo perduto per tutte le categorie e le attività alle quali è stato chiesto un sacrificio in vista del contenimento della seconda ondata pandemica e aggiunge un invito alla politica perché ritrovi coesione e responsabilità a ogni livello in un dibattito pubblico che sia pacato ed equilibrato per non disorientare i cittadini. Unità delle istituzioni locali verso il governo la auspica anche chi sovrintende al commercio cittadino. Servono contributi a fondo perduto sulla base del fatturato che queste realtà perdono in questo momento. Serve una moratoria per quanto riguarda i pagamenti fiscali perché non ci sono soldi nelle casse per onorare questi pagamenti. bisogna che sia finanziata la casa integrazione per pagare i dipendenti e ci vuole il credito imposta sugli affitti cioè bisogna annullare i costi fissi di queste attività perché se no vanno a picco se non hanno risorse per poter sostenere queste spese. Il comune vuole rappresentare quelle categorie che oggi sono a rischio dice Bressa in quanto ente più vicino a esse. Ecco come potrebbe aiutarle. Esempio l'imu di un ristorante può essere sospeso lo stato poi darà un ristoro al comune che non ha incassato l'imu da parte del ristoratore. Speriamo che queste compensazioni andate a ritorno tra Padova e Roma funzionino. Sembra però che sia l'unica strada. Palazzo Moroni ritiene di avere fatto nel recente passato già la sua parte e fa capire di non avere altre risorse. Oggi siamo verso la chiusura dell'anno. È difficile immaginare interventi che non siano messi in campo attraverso un ristoro del governo.